Ciao a tutti ragazzi, sono Ben di Ultimate Team FIFA Italia, sono qui con un pack opening da 250.000 crediti Infatti andremo ad aprire, dopo il pack opening di ieri, molto fortunato, questi 10 pacchetti FUT United con 12 giocatori di cui almeno 10 oro e 3 rari Quindi solo giocatori questa volta, andiamo a vedere se siamo fortunati anche oggi Apriamo il primo pacchetto, azzurrino, e troviamo Cahill, Cahill, Lima, Rodwell, Silva ancora, Silva, Caballero e Zanon Vabbè, teniamo Cahill e scartiamo tutti Perfetto Andiamo con il secondo pacchetto Secondo pacchetto, dai, 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 Howard Howard e Mauri, porca troia Howard e Mauri, poi c'è Calu, Tocco Niente di che, qui scartiamo anche Andiamo avanti, andiamo avanti Andiamo avanti con questo pack opening, con il terzo pacchetto Dai, forza, forza Dai, dai Adam Lallana e Sau, eppure ragazzi Questo si può scartare tutto, ho sbagliato Inviati dal club, vabbè Scartiamo adesso Ancora un altro pacchetto Siamo al quarto pacchetto Dai, 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 dai Mettiamo il pepe, questo pack opening Mettiamo il pepe con Giulio Cesar Fuff, vaffanculo Di tutti Di tutti i coreani Buggati Ho trovato quello con 51 di velocità Chissà perché Rulli Vabbè, scartiamo Andiamo avanti ancora Saltiamo Saltiamo Giulio Cesar e Ames, Ames Rodriguez Ancora Ames, ancora Ulio Cesar E poi Ames Rodriguez Quindi questo pacchetto io lo terrei tutto Ames lo mandiamo in lista trasferimenti Questo pacchetto lo teniamo tutto E scartiamo Il resto Ames Rodriguez Finalmente qualcosa di decente in questo pack opening Adesso vediamo Con il pack seguente Cosa succede Ochoa Danilo e Icardi Ochoa Danilo e Icardi Vabbè Vabbè Abbiamo capito Scartiamo E anche questa volta salto Menes 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 Eccolo qua Eccolo qua Menes Un altro if E' inutile E' inutile E' inutile Un if A partita A pack opening lo devo trovare sempre Meglio ancora se si chiama Jeremy Menes Grandissimo Jeremy Menes E questo si deve assolutamente tenere Si deve assolutamente tenere Perché Voglio dire Adesso probabilmente verrà gradato Quindi voglio dire Voglio dire Voglio dire Voglio dire Nei pack in cui ho saltato Ho trovato qualcosina Adesso non vuol dire Che mi metterò a saltare Tutti i pack Altrimenti Il pack opening diventa Una cosa bruttissima Dai Dai Gira Gira Benarfa Vaffanculo Stark Braimi Benarfa Lo teniamo Anche Richards Potrebbe servire Poi buttiamo Tutto via E andiamo a concludere Con l'ultimo Pacchetto Ultimo pacchetto Ultimo salto Kazaki Martinez Niente Va bene ragazzi Questo pack opening E' finito qui Ho trovato Jeremy Menez Sif Second inform Quindi E James Rodriguez Quindi un buon pack opening Spero che vi sia piaciuto Ci vediamo Nei prossimi video